6 giugno Daniel Fasso Un amico Per il mondo proprio protagonista che sovra anche un po' quelli che sono i confini del compatore Reppe è stato protagonista di una lunga pagina giornalistica anche con Domeni Dolimedio e non solo perché per lungo tempo ha educato una televisione ha creato qualcosa cosa che prima non c'era, poi la vita si è evoluta come si è evoluta, però l'impegno di Peppe è stato davvero sempre schierato dalla parte dei più debili e rappresentato quello che poi è il giornalismo che caratterizza le nostre edizioni. Soprattutto il giornalismo che mi ha insegnato l'omenico attiva il mio saluto speciale questa sera e che mi ha portato qua. Domenico mi ha sempre detto put in, vai avanti, dipendi i valori dei cittadini.